Mi vedo costretto, dopo il video pubblicato ieri, dover tornare sull'argomento. Ma mi vedo costretto dalla vostra reazione, dalla reazione di voi ascoltatori, che, devo ammetterlo, entro certi limiti non mi aspettavo. E allora, assemblifico molto il concetto solo per renderlo più chiaro. Molti di voi mi hanno detto che non dovevo stupirmi del fatto che l'Italia fosse una colonia degli Stati Uniti, perché questo era vero fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, tanto torniamo a quanto ha scritto Lucio Caracciolo, perché Lucio Caracciolo si è spinto bene in là. Cioè, ha scritto che gli Stati Uniti sono il nostro padrone di casa e che noi, prima di prendere certe decisioni, dobbiamo interpellarli ed avere il loro benestare. Ora, tutto questo a me non solo sembra intollerabile, ma assolutamente folle. In più, Lucio Caracciolo utilizza il termine padrone, un termine oramai bandito anche nell'accezione di titolare dell'impresa presso la quale si svolge il proprio lavoro. Allora, sia ben chiaro, io ovviamente comprendo che al termine della Seconda Guerra Mondiale, come nazione sconfitta, abbiamo dovuto accettare degli accordi che erano penalizzanti per il nostro paese. Ma attenzione, la Seconda Guerra Mondiale è finita da 74 anni, non da due giorni, perché se vale questo modo di ragionare, allora io torno ancora un po' più indietro all'impero romano e dico che comandiamo noi il mondo. Si è ben chiaro poi un'altra cosa, che io sono assolutamente conscio che è stato molto meglio per l'Italia, sempre alla fine della Seconda Guerra Mondiale, essere entrata nell'orbita degli Stati Uniti piuttosto che in quella della Russia. Però tutto questo non vuol dire che io debba accettare di essere diventato suddito degli Stati Uniti. E sia ben chiaro un'altra cosa, poi, che sia nel video precedente, ma lo ribadisco anche adesso, io non me la prendo assolutamente con le mire espansionistiche degli Stati Uniti, possono fare quello che ne hanno voglia. Me la prendo con quegli italiani che si rassegnano al fatto di essere o di diventare una colonia o addirittura, come abbiamo detto prima, sudditi degli Stati Uniti. Questa, a mio modo di vedere, è una cosa intollerabile, perché altrimenti, se accettiamo un metodo di ragionamento di questo tipo, allora dobbiamo chiederci ma perché andiamo a votare, se poi alla fine, comunque, prima di prendere delle decisioni, qualunque fosse il governo che abbiamo eletto, deve comunque andare a chiedere il permesso agli Stati Uniti. Cioè, sia ben chiaro, ovviamente, che io non voglio essere suddito di nessuno, né della Russia, né della Cina, ma neppure degli Stati Uniti, però, cioè, non ci mancherebbe altro, buoni rapporti con tutti, ma ognuno comanda a casa propria. Quindi non riesco a capire perché in molti di voi alberghi ancora un po' questo sentimento di rassegnazione. Siamo italiani, siamo il miglior popolo del mondo e dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani.